potente appara ragazzi qua vax sono da solo sono tornato sono qui a presentarvi uno squad builder ragazzi che ha un qualcosa di magico perchè ragazzi allora in assoluto non so se molti credo che molti di voi sa no no rifacciamo potente appara ciao ragazzi qua vax sono da solo e sono qui a presentarvi su mio nuovo video e ragazzi questo qua è uno squad builder magiterrimo perchè? perchè ragazzi in questi giorni ho chiesto sulla pagina facebook molte volte che squadra avresti voluto vedere in un mio prossimo squad builder in un macello mi avete scritto squadra buggata ed economica da 50.000 da 100.000 ma da 100 anche 50.000 quindi ho detto una cosa ma possiamo farne diverse quindi magari farne una da 100.000 una da 150.000 e una da 50.000 e ragazzi ho iniziato con quella in mezzo quindi oggi sono qui a presentarvi lo squad builder buggato da 100k ma buggato buggato si che però appunto sarà costituito da giocatori non i soliti giocatori balotelli i barbo così ma da giocatori un po' più magici che pochi conoscono quindi partiamo subito allora la squadra si chiama bugga tenji creiamo la nostra rosa e partiamo allora modulo modulo utilizzo un 3-5-2 perchè io sono abituato con quello e quindi vabbè si riesce a fare anche senza il 3-5-2 questa squadra però io ve lo consiglio con questo modulo e inizio subito dicendo che l'unica pecca di questa squadra è il portiere ma è una pecca personalmente perchè aspetta adesso vi spiego innanzitutto importa chi ho importa utilizzo il brasiliano il portiere brasiliano del Valencia che è Diego Alves ragazzi questi qua sono i tipi di portiere che ad alcuni giocatori fanno stragiano fanno stragi e ad altri fanno schifo infatti io sono uno di quegli altri infatti con me gioca abbastanza male però adesso lo ricomprerò perchè ad esempio la stessa cosa che mi era capitata con Noir che ad un certo punto giocava benissimo poi l'ho cambiato e ho iniziato a giocare da cani quindi magari ora proverò a cambiarlo e vi farò sapere comunque quindi in porta utilizziamo Diego Alves 90 di tuffo 72 di presa 74 di rinvio 90 di riflessi 55 di velocità 73 di piazzamento con la camista il gatto che gli aumenta tutti gli elementi tutte le statistiche della parte destra diciamo della carta appunto gli aumenta quindi riflessi velocità e piazzamento vi ho già detto cosa penso di lui quindi una cosa abbastanza tattica altro difensore centrale allora a destra utilizza innanzitutto ragazzi questa qua ovviamente è un'ibrida perchè io vi porto solo squadre ibridagiche allora a destra utilizziamo Miranda ragazzi lui mi piace veramente tanto 76 di velocità 48 di tiro 58 di passaggio 62 di debbing 80 di pesa 83 di testa in 6 partite mi ha fatto addirittura un assist ed è un difensore l'unico e pensate che mi ha stragiato senza che mi stai pensate appunto se li raggiungessi ma anche se li raggiungerò a breve quindi ragazzi lui mi piace veramente tanto l'ho pagato solamente 1100 costa questo l'avevo trovato nel pack però costa il prezzo appunto 1100 passiamo subito al difensore centrale centrale la difensore centrale che non è della liga BBVA bensì è della Bundesliga infatti chi utilizzo io utilizzo lui il magicone d'Antone perché ragazzi voi lo sapete è il mio difensore centrale preferito di questo gioco e per me è il più bagato altro che David Luiz 68 di velocità 59 di tiro 76 di passaggio 70 di debbing 84 di difesa 81 di testa quella che mi dista il ombra che gli aumenta di 3 la difesa e di 3 la velocità ragazzi lui è veramente forte provatelo l'ho pagato 4700 anche se adesso il suo prezzo si è appunto abbassato altro difensore centrale come è il mio solito utilizzo Boateng ragazzi Boateng che appunto mi dà doppia intesa a Dante mi darà doppia intesa ad un altro giocatore che appunto vedrete a momenti 75 di velocità 50 di tiro 72 di passaggio 67 di divini 79 di difesa 82 colpi di testa cosa ne penso di Boateng beh ragazzi quanto l'ho pagato l'ho pagato 1800 passiamo subito invece al cdc ai centrocampisti difensivi e centrali allora aspettate un attimo che mi devo ricordare allora da una parte utilizzo Luis Gustavo ragazzi anche lui Luis Gustavo l'ho già provato l'ho già fatto vedere in qualche mio altro squad build e penso mi piace veramente tanto ma soprattutto è il rapporto qualità prezzo che mi piace perché secondo me 1100 crediti vale alla grande ho fatto con lui 47 partite mi ha fatto 11 assist e è veramente forte come centrocampista difensivo con Gikrami Sittrail Glami Sittrail Gladiatore che gli aumenta tiro e dribbling e ster no passiamo subito all'altro cdc che non è della Bundesliga bensì è della Liga BBVA che utilizzo infatti utilizzo il magico Casemiro ragazzi come sapete lui mi sembra che sia il mio centrocampista difensivo centrale più forte perché allora l'ho pagato 3500 perché aveva la caministra particolare perché se no cc lo trovate a 450 cdc già è 2000 però ragazzi ve lo consiglio è fortissimo proprio buggato poi esterno destro esterno destro non è della Liga BBVA bensì è della Bundesliga mi serve soprattutto per fare intesa ma c'è meno male che l'ho scoperto perché mi è piaciuto veramente non so ancora cosa sia meglio se sia meglio lui o Blazikowski però mi piace veramente tanto infatti utilizzo Erma 91 di velocità 71 di tiro 71 di passaggio 80 di leading 44 di difesa 60 di colpo di testa l'ho pagato solamente 950 e mi sembra abbastanza forte esterno sinistro ragazzi qua iniziamo ad entrare appunto nella parte putegi bagateggi della squadra infatti questa squadra è caratterizzata da tre giocatori argento bagaterrimi allora il primo qual è il primo è Swain ragazzi molti alcuni di voi appunto quelli che mi scrivono l'anno scorso lo conoscono perché praticamente in ogni mio wager match no mio pink slip pink pale lo utilizzavo ragazzi era fortissimo lo utilizzavo come a t poi ahimè quest'anno gli è stato abbassato il prezzo però le sue caratteristiche sono sempre le stesse perché infatti o meglio le sue qualità in campo sono sempre le stesse perché dico ahimè perché ovviamente essendo argento costa un macello di più infatti l'ho pagato 34.500 è un esterno sinistro in un 3-5-2 come sappiamo tutti non è che segnano tanto esterno sinistro nel 3-5-2 bensì in quattro partite mi ha fatto addirittura due gol quindi ragazzi veramente forte chemisterlo utilizzo quella regista che aumenta tiro passaggio e dribbling passiamo invece alla parte offensiva della squadra allora come c o c utilizzo un giocatore oro che non è della bundesliga bensì è della liga BBVA che utilizzo utilizzo isco ragazzi isco passaggio 88 le prime due volte che l'avevo utilizzato non mi è piaciuto assolutamente ma andando avanti ragazzi è un mostro 5 partite 5 gol e un assist quindi mi sembra una cosa veramente potente ve lo consiglio alla stragrande e costa solamente 4.500 ed è un 84 ma passiamo subito agli elementi focosi di questa squadra allora il primo è della liga BBVA e ragazzi è il mio giocatore preferito di tutta la squadra appunto che appunto non conoscevo e mi sa che è un ATT che userò molte rime volte perché è veramente forte infatti utilizzo Ezer Rodriguez ATT del Real Madrid 87 velocità 72 tiro 66 di passaggio 85 drivi in 40 difesa 53 colpi di testa anche se sappiamo bene che dei giocatori argento non gli bisogna vedere le statistiche perché loro non le rispettano mai ragazzi Ezer Rodriguez l'ho pagato tanto 53.000 ma li vale alla grande ve lo posso assicurare in 5 partite ma ha fatto 4 gol quindi abbastanza buono da cannoniere ma anche 3 assist quindi questa è una cosa veramente magica ve lo consiglio alla grande quindi se avete 50.000 credit di team e non sapete chi comprare vi consiglio alla stragrande Ezer Rodriguez passiamo invece all'ultimo giocatore della squadra che è non è della Liga BBVA bensì è della Bundesliga infatti utilizzo Mlappa Peniel ragazzi un nome una garanzia Peniel Mlappa 193 cm ma da sdraiato workplace normale normale quindi mi sembra anche abbastanza buono e ragazzi come fa questa squadra ad avere 100 di intesa e i giocatori hanno così pochi collegamenti perché ragazzi Kezer Rodriguez e Isco hanno tripla intesa Mlappa e Herman hanno tripla intesa e poi vabbè per il resto potete ben capire che sono presenti le gambe di doppia intesa poi ragazzi qual è la qualità di questa squadra che sono riuscito a mettere insieme tre giocatori che erano buggaterrimi che infatti sono Eswein Ezer Rodriguez e Mlappa spero che non l'abbia ancora fatto nessuno perché l'ho inventata io ieri appunto mi ha aiutato un po' a minchia guardi quindi ragazzi ah non ho detto di Mlappa Mlappa l'ho pagato 20.075 costa in circa come l'anno scorso sinceramente lui lo pensavo un po' meglio però cioè qual è la sua qualità è che è un carro armato è un treno è un torello cioè lui va dritto e va dritto cioè spacca giù tutto i giocatori li butta in terra senza commetter fallo e poi cosa faccio io tipo davanti al portiere faccio il gol della merda e la passo a Eswein Rodriguez ora magari starete vedendo un po' di gol innanzitutto io spero che questo squad builder vi sia piaciuto mi raccomando fatemi sapere se appunto avete già provato o proverete questa squadra fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni su questa squadra poi che dire domani o forse già oggi non ne lo so farò un pink pale io penso di farlo quindi voi non scrivetemi a Excel fa il pink pale bla 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 penso di farlo quindi voi magari state un attimo attenti sulla mia pagina facebook il link l'ho trovato in descrizione pink palerò non ve lo dico starà Pedro If infatti lol quindi spero che appunto lo vogliate come fatta ad averlo questo video deve raggiungere i belli 1200 mi piace si spera i 1000 entro pomeriggio e 200 entro stasera e 200 anche domani poi ragazzi il 31 è il mio compleanno quindi vedremo cosa fare magari la mattina farò un live streaming anche se non credo adesso comunque bisogna vedere anche se io volevo portarmi il match contro Gabo però non mi risponde ahimè comunque detto questo spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace di commentare appunto per diventare iscritto più attivo vi auguro a tutti buon vacanza e buon anno anche se ci si senterà ovviamente e quindi detto questo vi saluto e vi dico potente a pala anzi no mi raccomando dato che io il 2 partirò ragazzi iscrivetevi dei video che vorreste vedere allora io farò gli altri due tipi di squad build però scrivetemene anche altri quindi ragazzi detto questo vi saluto e vi dico potente a pala al centro al prossimo video bolla a pala a pala